Ciao ragazzi, sono Marco e questo è il video di presentazione del mio canale YouTube Video Recensione Libri. Ho anche un blog che si chiama www.videorecensionelibri.wordpress.com. La mia pagina Facebook è Video Recensione Libri. Questo è il terzo video di presentazione che faccio, alcuni di voi forse hanno visto gli altri due, il motivo per cui lo sto aggiornando è perché ho migliorato l'hardware, quindi posso darvi un'impressione migliore in termini di qualità della presentazione del mio canale. Perché ho scelto di dedicarmi in questo settore, che comunque non è un settore di massa, o è un settore di tecnologia, o è un settore che frutterà chissà quanti iscritti o chissà quante visualizzazioni. Lo faccio per passione, lo faccio per hobby, è una mia, come dire, voglia di raccontare le mie percezioni su determinati testi. C'è da dire anche che nonostante io abbia pochissimi iscritti e poche visualizzazioni, ho, diciamo, il piacere di raccontarvi che il mio blog, e anche la mia persona di conseguenza, è stato citato appunto il mio blog nella testata giornalistica, Il resto del Carlino. Quindi qualche soddisfazione arriva quando ci metti l'anima e lo fai con passione. Purtroppo non riesco a fare molti video perché ho parecchi ostacoli di varia natura che non sto qui a raccontarvi per annoiarmi. Vorrei farne, come dice lo zio Monti, lo zio Monti è Marco Montemagno, che si alza tutti i giorni alle 5.40 e fa un video tutti i giorni, però ha avuto un successo enorme, è un uomo con gli attributi. Qui, da qualche parte, il suo libro, spettacolare, fenomenale. Questo uomo è un grande e devo dire che ha capito tanto. A capito mai soprattutto ha una sensibilità per percepire l'andamento del business, del mercato, della comunicazione molto elevata. Ha veramente fiuto per capire l'andazzo. Seguitelo, hai in gamba. Ciao zio Monti. Allora, tornando a noi, ho avuto più o meno da adolescente, quando avevo 14 anni, questa sensazione di iniziare a scoprire delle informazioni attendibili, e se non dove in un libro, che i libri è qualcosa che è nero su bianco, scritto da qualcuno che ha destinato quelle parole per comunicare qualcosa. Perché sto dicendo questo? Perché la mia... non stiamo parlando di romanzi o libri fantasy, giustamente quelli sono frutto anche della fantasia, ma sto parlando di qualcosa di tecnico. Perché la mia passione per la lettura è nata verso i 14 anni, contestualmente alla passione per il bodybuilding. Certo, a me non si dice più, non si direbbe. Quindi sono un po' fuori forma, è vero. Allora, dicevo che quando mi è andata la passione per il culturismo, ho iniziato a frequentare palestre della città in cui vivo. In queste palestre leggiavo uno spirito di gente metropolitana, di storie, di filosofie, insomma, molto discordanti, incoerenti. Io percepivo che c'era qualcosa di anomalo. Di neanche incompleto, cioè sentivo l'esigenza di avere delle informazioni più complete. C'è da dire che oltre a varie leggende metropolitane, è pur vero che c'erano anche scuole di pensiero diverse, per carità. Almeno quella era la migliore delle ipotesi, trovarsi di fronte a scuole di pensiero, almeno aveva un senso rispetto a tutte le calzate che sentivo. Allora in me è nata la voglia di vederci chiaro. E quindi da lì iniziai a leggere dei libri che parlano di culturismo, di alimentazione, di tecniche di allenamento, e da lì ho notato che mi piaceva, diciamo, dare sazietà alla mia fame di conoscenza. E questo mi ha reso, come dire, più propenso alla lettura nel futuro anche di altri tipi di testo, non soltanto pratici o tecnici. E da qui è nata la passione per i romanzi in generale, per i libri gialli, per la lettura comunque sia. E allora, ad un certo punto ho pensato insieme a un amico, ho detto, sai, potendo sfruttare anche le mie piccole competenze informatiche, che vorrei condividere le mie idee su quelle che possono essere i consigli sulla lettura e le mie impressioni su libri che leggo. E da qui è nata la mia volontà di dedicarmi a questo tipo di attività. Certo, non riesco a farlo con un livello professionale, sicuramente non avrò milioni iscritti, però per me è un hobby che mi permette di avere anche piccole soddisfazioni, perché come vi ho già detto sono stato censito dal giornale Il resto del Carlino, sono stato contattato da uno scrittore per qualche recensione, c'è qualche piacere, nonostante i pochi iscritti e le poche visualizzazioni, sono riuscito ad ottenere, e questo per me significa tanto. Poi l'importante è che quello che faccio lo faccio con il cuore, lo faccio con una forte volontà di condividere i pareri, o conoscere nuovi scrittori, perché ho conosciuto anche degli scrittori che magari non sono così tanto di tendenza o in voga, quindi ogni tanto vorrei rendervi partecipi di questi nuovi scrittori che magari cercano più spazio, anche l'idea è questa. Per il resto di me cosa dirvi? Ho anche due cagnolini che in questo momento non mi danno pace, una bassotta di 15 anni, e non mi dà un attimo di pace, perché è bella esigente essendo una che è un zanzianotta, fortunatamente adesso dorme e ci permette di fare questo video. L'altro cane è il disgraziatello che gira per la casa di continuo anche quando faccio le recensioni, in questo momento ce l'ho qui, eccolo, che mi guarda che vuole le coccole, te le faccio le coccole, fai ciao. Eccolo qua, è un monellone che vuole sempre le coccole, non mi lascia un attimo di pace. Bello di papà. Lui è pupetto. Ha un annetto di un cagnolino bellissimo. Vero? E ciao. Ciao. Ora vai dall'altra cagnolina, bello. Quindi ragazzi, vi invito a dare un'occhiata al mio blog, che è www.videorecensionelibri.wordpress.com La pagina Facebook è Videorecensionelibri. Su Instagram ogni tanto faccio qualche foto, soprattutto degli eventi a cui partecipo, magari presentazioni dei libri, autografi di alcuni autori. Lì sono con il nome di Videorecensionelibri, non con quello personale. Ragazzi, se vi piace questo canale, contattatemi per qualsiasi chiarimento, o per qualche consiglio che avete da dare, che sono sempre ben accetti, affinché ci sia un confronto per migliorarci. E mi raccomando, cerchiamo di diventare numerosi, così magari riusciremo a avere più successo per quanto riguarda il mondo della lettura, che è il mondo che sicuramente potrebbe, senza dubbio, rendere il posto in cui viviamo un mondo migliore. Io infatti spesso vedrete che metterò delle pignette all'inizio dei video e alla fine un pochettino particolari, che diciamo io odio un pochettino tutto ciò che è la TV, tutto ciò che è l'informazione pilotata, per me sono out. Figuratevi, nella mia stanza non esiste la TV, non ne guardo, non perché abbia qualcosa di pronto, ma perché mi sembra qualcosa di veramente terribile. Diciamo così. No, contro no, ma è terribile. Dovreste, secondo me, iniziare seriamente a rivalutare il mondo della lettura per scoprire mondi che sono totalmente diversi da quelli in cui viviamo e magari gli aprono un po' la mente e ti aprono anche le prospettive e gli orizzonti per comprendere meglio il mondo in cui vivi. La mia lettura spazia dai romanzi gialli, spazia da testi di psicologia, leggo anche ogni tanto qualcosa di politica, come un libro del senatore Emanuele Magaluso che mi ha chiarito un pochettino meglio lo sviluppo della Costituzione italiana, da un uomo che l'ha vissuta perché era lì, era presente, quindi diciamo ho diversi interessi in questo settore e cerco di dedicare la mia competenza e conoscenza in questo canale. I miei scrittori preferiti sono in ordine sparso e casuale, non di preferenza. Zafon sicuramente è uno dei scrittori preferiti, Glenn Cooper senza dubbio, poi sicuramente anche Marco Boticchi è uno scrittore italiano veramente bravo, di gialli, veramente veramente bravo, i suoi libri sono fantastici. Poi questi sono tre gli autori che preferisco senza dubbio, anche Maurizio De Giovanni che ho avuto il piacere di conoscere, uno scrittore veramente in gamba, e tra parentesi I bastardi di Pizzo Falcone che sta andando in onda, è una fiction recente, è ispirata appunto da I bastardi di Pizzo Falcone dai libri di Maurizio De Giovanni. Veramente una persona in gamba, prima di essere uno scrittore molto competente e capace, è una persona in gamba. Ho avuto la possibilità di parlarci cinque minuti e mi ha colpito l'umiltà di questa persona e l'amore per la scrittura e per la lettura perché lui è un grande amante della lettura, addirittura mi ha confessato che vorrebbe smettere di scrivere per dedicarsi alla lettura. Spero non lo faccia mai perché i suoi libri sono belli, davvero molto interessanti perché hanno uno spaccato molto forte della società italiana, nello specifico napoletana, di alcuni periodi della nostra bella Italia. Molto belli i suoi libri, anche come ambientazione, veramente in gamba. Mentre i miei libri più preferiti, e quindi non come autori ma libri, sicuramente c'è il 1984 di Hober, parliamo di qualcosa di un altro livello, è considerato uno dei libri che ha predetto il futuro. Tra parentesi, la trasmissione televisiva è triste da dire, ma è così, il grande fratello si è ispirata a questo libro. Qualcuno magari potrebbe vendere questa idea per leggere il libro, che sicuramente capirà il motivo. E l'altro è un altro mio libro preferito, altri due libri preferiti, sono del maestro di Giorgio O'Operle, parliamo di Aldous Huxley, Il mondo nuovo e il ritorno al nuovo mondo, capolavori, cioè andiamo a un altro livello, i ragazzi sono dei libri che comunque dovrebbero essere, all'elementare, dovrebbero leggere quei libri così, i bambini già sono pronti ad affrontare la società e a capire dove si trovano, perché sono molto chiarificatori e soprattutto ci hanno azzeccato su tanti aspetti inquietanti notare quanto ora l'abbia predetto il futuro. Era una persona con una percezione dell'andamento sociale incredibile, non è che è un Nostradamus che ha fatto delle profezie, è semplicemente una persona molto intelligente, con una sensibilità per la percezione degli avvenimenti spaventosa, incredibile, e infatti su determinati aspetti ha avuto riscontro, ahimè, anzi, ai noi. Ragazzi, io vi lascio, spero che questa presentazione sia piaciuta di più rispetto alle altre e soprattutto sono certo che a livello qualitativo è venuta in un altro modo, perché ho acquistato dell'hardware più potente e mi è stata regalata una Logitech che registra in HD per il mio compleanno. Grazie amici miei, avete fatto una cosa molto gradita. Ci vediamo ragazzi, alla prossima, ciao Zio Monti, grazie a Cielo sono riusciti a trovarlo, questo libro ragazzi, leggetelo, poi farò la recensione, lo sto leggendo, è strepitoso, per chi conosce dello Zio Monti, come dire, lui ha sintetizzato un po' tutta la sua filosofia e tutti i concetti più importanti dei suoi video online e li ha messi nero su bianco per darci a noi la possibilità di intracciarli nell'immediato e di avere le idee chiare su quello che era il suo progetto iniziale dei video. È un uomo che è da scoprire, veramente in gamba, leggetelo, compratelo, anche se non si sta trovando più, ha fatto il botto questo libro, su Amazon non ci sono tempi di attesa assurdi, su IBS è la stessa cosa, in libreria va prenotato, un successo strepitoso e come ha fatto, beh, reggete il libro e lo scoprirete. Sicuramente non è uno di quei libri cazzoni, scusate l'espressione, che vi dice di recitare la formuletta magica o di, non lo so, a tirare a voi tramite qualche mantra di tirare a voi i soldi e il successo, no, è un libro scritto da una persona competente perché Montemagno non è uno qualunque, è una persona comunque che ha studiato, è laureato in giurisprudenza, ha fatto un percorso di vita molto significativo, andate a documentare che sicuramente troverete interessante il percorso di vita di questo ragazzo, di questo uomo che adesso vive in Inghilterra, che è stato, ha lavorato per Sky, insomma, ha un bel percorso di vita, sicuramente le sue parole non sono banali, ma sono concetti vissuti in prima persona e concetti soprattutto elaborati, cioè è una persona che legge tantissimo, già questo fa riflettere, e ha scritto un libro molto particolare. Per le persone che seguono Monti, questo è scontato, per chi non lo dovesse conoscere, ragazzi, vi invito a guardare la sua pagina, oltre che la mia, se no ci mancherebbe, e adesso io, qua il mio comparozzo pupo, vi salutiamo, eccolo qua, fai ciao a papà, come? Che dici? Bello! Ciao a tutti ragazzi, e ci vediamo alla prossima, e sicuramente vedrete anche lui, perché lui è il mio stalker ufficiale, nonché disturbatore delle recensioni. Ciao ragazzi, ciao ciao! Ciao a tutti!